So this is Christmas And what have you done? Another year over Vi troviamo in Corso Italia numero 87 presso il Market Italia per augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti Adesso andiamo a intervistare uno dei responsabili del Market Italia Siamo in compagnia di uno dei responsabili, Gennaro Gennaro vuoi augurare anche tu un buon Natale? Certo, auguro un buon 2015 che deve venire Un buon Natale a tutti gli ercolanesi E vi passo il nostro cliente Auguriamo davvero a tutti tanta felicità Pensiamo solo ad oggi, domani non ci pensiamo Domani poi Dio ci pensa, va bene? Tanti auguri a tutti Dopo aver ascoltato gli auguri di buon Natale di Gennaro Passiamo alle immagini Oggi è 13 dicembre Santa Lucia Siamo proprio in compagnia di Lucia, la cassiera del Market Italia Vuoi fare anche tu gli auguri? Certo, augurissimi di un sereno Natale ricco ricco di luce La luce che viene dal cuore Buon Natale E auguri anche a te Grazie Siamo in compagnia di un altro responsabile del Market Italia Ciro Ciro vuoi dare anche tu gli auguri di buon Natale? Auguro un buon Natale a tutti i nostri clienti In particolare E anche a tutti gli ercolanesi Che vengono a trovarci in queste feste per tutto l'anno E anche a tutti i nostri clienti